Ciao a tutti ragazzi, sono Chapeau69 e oggi vi spiegherò come installare un emulatore performante quindi per riuscire a fare PUP senza lag, senza cazzi, senza capocchie velocemente sul vostro computer senza troppi sforzi, senza troppi bla 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 tre cose importanti 1. C'è un canale Telegram dove tutti si aiutano, dove tutti si amano, dove tutti si oiano bene Chapeau bellissimo, stupendo, chi stia aspettando non c'è ancora entrato? Chapeau entra 2. Tutti i giorni siamo in live, tutti i giorni, non dico tutte le sere, tutti gli orari, sempre, sempre live, sempre live, 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 live non ti piacciono le live? Chapeau! Entra comunque in live 4. Troverete in descrizione il link per scaricare l'emulatore l'emulatore si chiamerà Fabio Drip Drip Version o qualcosa del genere, non mi ricordo ora come cazzo l'ho chiamato semplice da scaricare, doppio clic si installa, chapeau l'emulatore è una versione di Bluestack, quindi una versione di Bluestack un po' più vecchia ma che funziona che è 100% performante non vi causa crash o almeno vi causa crash dopo 2 o 3 scenari ma se riavviate ad ogni partita avete la possibilità di giocare in pvp senza troppi problemi anche con fps abbastanza alti andiamo a vedere cosa si deve fare e cosa non si deve fare per riuscire a migliorare e a sistemare questa cosa andando nel qui proprio delle situazioni una volta installato il file che trovate in descrizione vi ritroverete questi due file sullo sfondo del computer quindi servirà a cliccare Bluestack 5 Multi Instance voilà, chapeau, chapeau, chapeau servirà a creare una nuova istanza perché vi creerà un'istanza di default quindi si fa istanza, nuova istanza Nogat 64, non 32, 64 prossimo e qui servirà mettere solo ARM questo va in base alle prestazioni del vostro computer che io non posso conoscere quindi di base se non avete un buon computer l'emulatore non è consigliato ma nel caso in cui avete un buon computer possiamo proseguire con quello che si deve fare quindi si clicca Crea escerà una barra dove vi creerà l'emulatore e via dicendo per ottimizzare gli fps quindi per ottimizzare la velocità con cui il gioco andrà e via dicendo è importante non cappare gli fps quindi mettere gli fps al massimo delle possibilità non arriverà mai e poi mai neanche lontanamente ai 100 ma dandogli il massimale con un buon computer riuscirà a raggiungere i 50, 60, anche 80 nelle schermate più blande come quella principale questi sono i miei settaggi personali che non dovete per forza replicare io ho 32 giga di RAM quindi posso dare 8 giga all'emulatore non me ne frega più di tanto questo è un mio settaggio personale perché ho abbastanza core da poter dare 6 core all'emulatore ed è un settaggio personale che non dovete per forza replicare basta il classico settaggio 4 e qui 4000 e via quindi basta il classico settaggio questa non è una cosa per forza da replicare l'importante è lasciare al massimo la frequenza dei fotogrammi è 240 perché se già la cappate a 60 non riuscirete mai ad andare oltre 20 quindi è importante capire questo passaggio i passaggi sono molto semplici ve li ho spiegato una merda perché sto morendo di sonno sono le 7 di mattina sono le 7 di mattina non dormo da non so quando ma se non ci sono queste condizioni ovvero il non dormire l'essere rincoglionito eccetera eccetera mi scoccio a fare video quindi chapeau questo video è sponsorizzato da me solo da me vi aspetto in live quando avete un attimo se non avete un attimo non vi aspetto in live vi aspetto su telegram se avete un attimo se non avete un attimo non vi aspetto su telegram per questo video è tutto chapeau generale a tutti baci bacioni adios e sayonara ah e se all'inizio c'era un gatto semplicemente perché mi piaceva il gatto cioè non aveva nessuna valenza reale la foto del gatto bacino grazie a tutti